Musica Sono Lugli Monica, la responsabile del marketing di prodotto di Colorobbia. Con questo stand abbiamo voluto rafforzare quello che è il Made in Italy, essendo Colorobbia un'azienda da una lunga storia di tradizioni, di materie e di cura nel prodotto, soprattutto attraverso l'innovazione. Troverete in questo stand quattro città icone italiane, dove quello che troverete all'interno è il gusto e la tradizione arricchita dai nostri materiali. L'utilizzo soprattutto di graniglie per dare profondità, ricchezza e matericità a tutto quello che sono grafiche innovative, ma anche della tradizione italiana. Attraverso quello che è l'innovazione si è portato anche a aumentare sempre di più la percezione del valore aggiunto della materia, anche con la smaltatura digitale. La smaltatura digitale attraverso la collaborazione con Durst, con la loro innovazione, abbiamo dato profondità sempre più ai prodotti, alle grafiche, per renderli sempre più simili a quello che sono le inspiration, i materiali naturali. Innalzando anche le caratteristiche tecniche, quello che è il colore, la superficie e tutto ciò che può andare a differenziare la produzione nei vari stabilimenti e con i marchi che ognuno ha.